A partire da oggi, giovedì 26 settembre, sono previste nuove interruzioni idriche nei comuni serviti dall'invaso del Camastra. Acquedotto Lucano ha condiviso un calendario di sospensioni programmate per far fronte alla grave carenza d'acqua. Il tavolo tecnico regionale, composto da rappresentanti delle prefetture, protezione civile, regione Basilicata e altri enti locali, ha stabilito le interruzioni che riguarderanno diverse aree di potenza in numerosi altri comuni della regione. A potenza oggi, dalle 18.30 fino alle 6.30 di domani, ad esempio, resteranno senza acqua zone come Rione Castello, Valle Paradiso, Gallitello e altre. Le interruzioni proseguiranno nei giorni seguenti, coinvolgendo nuove aree e prolungandosi fino al 3 ottobre. Il programma prevede sospensioni anche nei comuni limitrofi. A partire dal 27 settembre resteranno a secco Tito, Forenza, Pietragalla e Frazioni, Sanchirico Nuovo, Tricarico, Castelmezzano e altri. Le interruzioni seguiranno un calendario specifico con alcuni giorni di pausa come il 29 settembre. Sospensioni che riguarderanno soprattutto le ore serali e notturne per ridurre il disagio alla popolazione. Le autorità invitano i cittadini a fare scorte d'acqua e a consultare regolarmente gli aggiornamenti di Acquedotto Lucano per eventuali variazioni del programma.